Aspettando i nuovi colpi di mercato in prima squadra il città di Cosenza si conferma uno dei vivai più floridi della pallannuoto italiana femminile. Dopo il titolo under 15, quello under 17, il club femminile mette in bacheca anche il tricolore under 19. In finale la squadra allenata da Roberto Fiori ha strapazzato nel gioco e nel punteggio il bogliasco. Liara praticamente perfetta del setterosa silano che non ha lasciato scampo alle colleghe Liguri in gioco di fatto solo ad inizio gara. Una pura illusione, poi il nulla con Garritano e compagne che hanno premuto sull'acceleratore e fatto il vuoto, segnando un divario troppo ampio per essere colmato. A fine gara riconoscimento speciale per Divina Nigro, premiata come miglior portiere della competizione. La stessa giocatrice, insieme a qualche altro elemento dell'under 19, potrebbe far parte della formazione e nastri di partenza del secondo campionato consecutivo di Serie 1. Grazie a tutti! Grazie a tutti!